torta di mele veneziana, una torta ricchissima di mele, umida, profumata, morbida e buona buona sbuccia le mele, puoi usare le golden o le renetta elimina il torsolo e taglia le affette sottili aggiungi il succo di limone, ancora meglio se puoi utilizzare del succo di limone e del succo d'arancia mescolati mescola poi per non far annerire le mele in una terrina metti le uova e lo zucchero e lavora velocemente con una forchetta aggiungi la farina setacciata con il lievito e il burro fuso profuma con la scorza di limone oppure con un mix di limone ed arancia unisci anche il sale e mescola fino ad ottenere un composto omogeneo termina incorporando le mele rivesti con carta forno uno stampo a cerniera di 24 cm di diametro metti del pan grattato sulla base e versa il composto di mele in forno a 180 gradi statico per 40 45 minuti una volta pronta sforna e lascia raffreddare cospargi con abbondante zucchero a velo e voilà grazie a tutti Grazie.